Ti piacerebbe creare il tuo digital workplace aziendale in meno di un'ora? Tramite Intranet AI puoi farlo davvero. Abbiamo oltre 20 applicazioni verticali che coprono le classiche esigenze che hanno tutte le aziende, in qualsiasi settore e di qualsiasi dimensione, quindi anche la tua. La soluzione è pensata per ridurre i costi e darti uno strumento pronto immediatamente per comunicare con i tuoi lavoratori, per offrirgli dei servizi, per avere un punto unico dove possono trovare tutte le informazioni per il loro lavoro nel modo più veloce possibile, estendendo gli strumenti di Microsoft 365. Se vuoi saperne di più, contattaci.